Risonanza magnetica cardiaca anche all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Si amplia così il ventaglio della diagnostica per immagini in cardiologia all'ospedale Nocerino grazie alla proficua collaborazione tra specialisti sia nel paziente acuto che più stabile o cronico. Un servizio importante per la caratterizzazione di molte patologie. La risonanza magnetica cardiaca o cardio RM è un esame diagnostico strumentale di terzo livello che permette di studiare in modo approfondito il cuore e dare una risposta precisa circa la sua funzionalità e la presenza di alterazione della struttura del muscolo cardiaco o del pericardio. La risonanza magnetica viene solitamente richiesta per valutare malformazioni e masse cardiache per studiare alcune forme di aritmie e diverse cardiomiopatie. Per valutare la fibrosi cardiaca dopo un infarto del miocardio per diagnosticare malattie del pericardio o della orta in misura minore per lo studio dell'apparato valvolare cardiaco. A spiegarlo è il direttore dell'unità operativa cardiologica Antonello D'Andrea. Collaborazione tra reparti e tra specialisti. Lei questo lo ha evidenziato? Sì, questo è il punto nodale. Allora noi per fortuna diciamo all'ospedale Umberto I abbiamo una validissima collaborazione fino ad oggi soprattutto per i pazienti acuto, per esempio nel percorso dello strocco, vi faccio l'esempio, con per esempio la dottorissa Cuomo, responsabile della neurologia e il dottore Manto, responsabile della neuroradiologia interventistica. Cioè il paziente che viene con l'ictus acuto viene gestito clinicamente e trattato in acuto proprio per esempio al dottore Manto. Poi il punto è perché gli è venuto questo ictus e allora qui entriamo in gioco insieme come cardiologi e diamo tutta la possibilità della diagnostica per capire da dove è venuto questo ictus, per esempio con l'eco transacranico che è una metodica proprio per vedere il circolo cerebrale. E questo è stato quello fatto fino ad oggi. La novità perché riguarda la cardioresonanza e la collaborazione diciamo nel paziente più stabilizzato, una collaborazione con il gruppo dei radiologi, in particolare il dottore Frusciante che è responsabile proprio della radiologia in cui sotto anche sua forte spinta abbiamo creato questa possibilità che appunto è in nascita, nel senso inizieremo ora con i primi pazienti ma come detto è un esame veramente diciamo importante per completare il percorso ed evitare che vada fuori perché questo è un esame che a volte eravamo costretti a mandare in centri esterni proprio perché mancava la possibilità di farlo qua. Invece da noi il paziente appunto anche ricoverato da noi può da oggi farlo. Ilimo prevalentemente con pazienti ricoverati, poi sì come spero diciamo migliore elim in questo percorso poi ci apriremo anche all'esterno. Però è ovvio che come ospedale noi vogliamo dare priorità al paziente ricoverato.